Bene doveva arrivare dalle 2.40 alle 4.40 e invece niente hanno appena suonato ed è arrivato. Cosa è arrivato? Cosa non è arrivato? Cosa non è arrivato? E' arrivato questo. Tra l'altro me l'ha lasciato senza biglietto senza farmi firmare niente. Ho suonato campanello sono arrivato giù c'era la scatola davanti davanti il portone. La SDA sembra quello che mi fai schifo porca puttana e per questo pacco dovrebbero avere guadagnato anche abbastanza tra l'altro capisco un attimo come si apre qui si apre generale riusciva per riposare? Eccola, 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 eccola 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 c'è un'altra scatola, stile matrioska, bello che ci sono i sacchettini anche nei lati ma di qua no quindi che cazzo, ecco cosa che sta andando, un po' teante, sta qua intorno per incastrarlo di qua, scatolina piccolina, ho preso quello da 128 ovviamente, sono po' ragazzi è arrivato dall'olanda, ship to olanda, netherlands, avranno una sede in olanda bene, questo qui è il meta 3, qua c'è la sigillo, niente, il resto lo sapete già, dopo lo apro e farò sicuramente qualche video con il mio nuovo meta 3 ma questo qui invece che ne farò? ci metterò dei giochi da poter giocare assieme con gli amici pochi rimasti che figata, bombane, il prodotto lo conoscete già ma ripeto metterò dei giochi soprattutto compatibili tra l'uno e l'altro in modo che chiunque come me che si comprerà l'upload avrà l'occasione e anche l'aiuto e il suggerimento di trovare giochi incompatibili per entrambi per giocare in coppia ciao